Benvenuti a un nuovo appuntamento con i nostri incontri di Emergency and Critical Care. Quello che vi propongo oggi è una gallopata attraverso le varie manifestazioni delle crisi convulsive tra il paziente idiopatico, il paziente con encefalopatia epatica, il traumatizzato cranico. Dunque, le crisi convulsive sapete che possono avere delle manifestazioni in particolari razze che conoscerete sicuramente meglio di me e si manifestano con un'attività neuronale associata a sintomi motori autonomici o corpontamentali anomali. Possono essere a clusters, quindi ai cosiddetti grappoli. Sono due o più crisi in un periodo di 24 ore. Se invece durano almeno o anche di più di 5 minuti avete il cosiddetto status epilettico. Non c'è di solito ovviamente una ripresa di coscienza e lo status può diventare refrattario o super refrattario dipende in base a quale terapia farmacologica non risponde e per quanto dura ovviamente. Quello che noi andiamo a vedere sono praticamente dei meccanismi endogeni che non riescono a interrompere la crisi e ci sono ovviamente una serie di danni neuronali che compaiono ovviamente in base al tempo trascorso. Tra questi si annoverano anche edema cerebrale, aumento della pressione intracranica e altre condizioni sempre più estreme. Lo status ha ovviamente una patofisiologia non indifferente che come vedete ha delle conseguenze che dicevamo abbastanza importanti che vanno dalla ipertermia all'edema polmonare non cardiogeno, aritmie e in condizioni estreme addirittura l'arresto cardiaco. Nell'epidemiologia le cause possono appunto essere variabili, quindi avere delle condizioni di epilessie idiopatiche, epilessie strutturali eccetera eccetera. Se poi aggiungiamo che c'è anche una non indifferente percentuale di mortalità capite anche l'importanza di muoversi con una certa rapidità. Le cause possono anche essere descritte in base all'età del paziente e qui potete vedere che per esempio l'encefalopatia epatica colpisce il paziente giovane con meno di un anno di vita o circa un anno di vita o poco più. Spesso volentieri possono essere anche crisi convulsive su base tossica oppure collegate ad altre patologie che per esempio manifestino ipoglicemia o altri sintomi oppure come per esempio ipocalcemia. Fra i tossici come dicevamo avete una lista non indifferente. Penso che la stragrande maggioranza di noi veda intossicazioni esogene correlate per lo più probabilmente alla prima linea della lista che vedete. Spesso e volentieri abbiamo il cliente che mette per esempio lo spoton da cane sul gatto e noi ci ritroviamo il gatto in crisi convulsive. Nella lista delle diagnosi differenziali un approccio può essere utilizzato con il mnemonico vitamin D. È un mnemonico ovviamente su base anglosassone. A me risulta spesso facile da ricordare perché ogni lettera come vedete indica una possibile causa e quindi è possibile regolarsi con una checklist seguendola passo passo. Quando iniziamo l'urgenza dobbiamo ricordarci ovviamente il nostro approccio collegato alle prime cinque lettere dell'alfabeto che indicano ovviamente una serie di condizioni che mettono a rischio vita il nostro paziente, quindi le vie aere, il respiro, il sistema cardiocircolatorio, le condizioni appunto neurologiche e le condizioni che mettono in esposizione per esempio fratture, organi o altre condizioni più importanti. Nel nostro caso il nostro paziente in crisi convulsive può andare incontro per esempio a una condizione che va sotto il nome di riflesso di Cushing, il Cushing reflex, che è una condizione estrema che porta il paziente in bradicardia, ipertensione e apnea. Questo perché abbiamo un aumento estremo della pressione intracranica e siamo in procinto di vedere un'erniazione. Quindi in un paziente che entra con crisi convulsive il nostro approccio ovviamente è quello di dare dell'ossigeno 100% secondo la vostra predisposizione, flow by, maschera, intubazione, dovrete valutarlo voi al momento. Nel nostro trattamento d'urgenza ovviamente il concetto è sempre quello di essere preparati, quindi oltre all'aspetto pratico cioè di avere del materiale pronto, cioè il vostro crash card organizzato eccetera, i tracheotubi, laryngoscopio, tutto quello che volete eccetera, ricordatevi sempre ovviamente di avere un gruppo di supporto, avere dello staff col quale affrontare le urgenze, anche perché una volta che voi avrete lavorato 8, 12, 15 ore in una struttura eccetera, non è che vorrete rimanerci ancora, dovrete andare a casa a riposare, quindi dovrete essere in grado di avere passato le informazioni fondamentali al vostro team, scritto un referto completo ed esaustivo in modo che nessuno per esempio vi telefoni appena siete andati a dormire dopo una notte distruttiva. Quindi dicevamo l'ipertensione intracranica è una condizione da trattare con una certa rapidità. Ovviamente la nostra valutazione dell'ipertensione intracranica è collegata a una valutazione, come dicevamo prima, di aspetti clinici e parzialmente strumentali, perché ovviamente noi non è che nei nostri pazienti possiamo mettere un catetere intracranico, quindi o almeno c'è solo un paper a riguardo su un gatto. Quindi in una situazione in cui una valutazione di un'ipertensione intracranica è come dicevamo correlata anche a un aumento importante dell'ipertensione della pressione sanguigna e quindi della pressione sistemica, la terapia iperosmolare è indicata per questi pazienti, come dicevamo, che mostrino condizioni estreme come il Cushing reflex. Quindi a voi la scelta di utilizzare il manitolo piuttosto che l'ipertonica. I paper ovviamente sono tantissimi e non c'è un'evidenza che dica che sia meglio uno piuttosto che un altro. Dovrete valutare chiaramente da situazione a situazione. L'altra cosa ovviamente è da valutare se il paziente è in convulsioni per esempio per colpo di calore ed è in ipertermia e quindi ovviamente dovremo trattarlo secondo i termini escludendo per esempio la cepromazina attivando una serie di procedure per raffreddare il paziente stesso. Contropartita, se invece il paziente è ipotermico dovremo attivare tutta una serie di sistemi per riscaldare il paziente stesso. Quindi quando arriva il paziente in convulsioni ovviamente il nostro indice principale è quello di sapere da che parte sta andando questo paziente. Sicuramente con l'ossigenoterapia, con gli anticonvulsivanti dobbiamo avere già una linea di lavoro precisa. E in pratica poi cosa facciamo? Mettiamo un catetere venoso e prendiamo del sangue per fare un emogas e valutare per esempio lattati e glicemia e altri parametri del cosiddetto minimum database. Con un'ipoglicemia, con questi valori che vediamo ovviamente dovremmo andare a cercare di ricalibrarla e quindi potremmo utilizzare del destrosio al 50% diluito secondo la formula che vi ho scritto, il dosaggio che vi ho scritto. Ovviamente vi ricordo che non utilizziamo del strosio al 50% puro perché può causare delle gravi flebiti. In caso di ipocalcemia invece useremo una somministrazione di calcio gluconato, somministrato ovviamente lentamente, come vedete in 10-30 minuti e sotto stretto monitoraggio ECG. In caso di intossicazioni e come vedete nell'angolo in basso a destra del slide di tossici, ce ne sono tanti, l'intralipid, l'infusione lipidica vi può dare un grosso aiuto con il cosiddetto sync effect. Quindi il protocollo da utilizzare lo vedete descritto con un inizio programmato e che si può sviluppare fino a 24 ore. Questo perché dopo 24 ore la sacca ovviamente può andare incontro a contaminazione, quindi deve essere eliminata e ovviamente non è una procedura priva di rischi perché i rischi e gli effetti collaterali, come vedete, vanno dalla pancreatite alle coagulopatie. Quindi il nostro paziente è entrato in convulsione o almeno il nostro, oppure il nostro paziente è arrivato dopo delle crisi convulsive a case e il cliente ci dice che non si è poi tranquillizzato. Ok, il mio consiglio è questo. A meno che voi non abbiate la fortuna di lavorare in una delle pochissime strutture in Italia o nel mondo che possano disporre di un elettroencefalogramma, voi non potete prevedere cosa succederà nell'immediato, quindi il mio consiglio è date una benzodiazepina, lavorate in anticipo, evitate di dover andare a curare delle condizioni più estreme. Quindi il paziente che entra o non entra in crisi convulsiva per me prende una dose di benzodiazepina. A voi la scelta il diazepam intrarettale per endovena. Vi ricordo che non deve essere dato in muscolo e tantomeno deve essere dato in bocca, visto che come vedete dal paper che ho messo in angolo giù può causare una necrosi epatica fulminante. Invece lo potete mettere in CRI, è diluito ovviamente, però ovviamente la somministrazione non può essere prolungata perché come sapete si lega la plastica inattivandosi. In alternativa potete usare il midazolam e come sapete c'è anche la possibilità, ci sono state una serie di studi recenti, soprattutto con l'Università di Bologna, sull'utilizzo intranasale con degli ottimi risultati, soprattutto sulla tempistica. Quindi una volta che avete usato le vostre benzodiazepine e il vostro paziente si stabilizza, potrete fare le vostre dovute valutazioni. Per esempio se è la prima presentazione e il paziente non mostra niente, rimane ricoverato con voi per 48 ore e ne parlate con il vostro neurologo di fiducia, dovrete ovviamente valutare protocolli e linee guida come abbiamo per esempio nel consensus del 2015. Ma diciamo che voi non sapete niente di questo paziente, ok? È in prima presentazione, quindi se le benzodiazepine cominciano ad avere alla seconda, terza somministrazione, vi fanno ripresentare il paziente in crisi, dobbiamo passare a una seconda linea. In questo caso possiamo utilizzare appunto i barbiturici, quindi la vostra molecola di prima scelta diventa il fenobarbitale. Ora i dosaggi che voi troverete variano da 2,5 a 4 a 6 milligrammi come vi ho segnato qui, fino a un massimo di 24 milligrammi chilo in 24 ore. Il concetto è che se per esempio abbiamo una condizione in cui invece il paziente sia già sotto fenobarbitale, allora bisognerà valutare altre opzioni e altri approcci. In questo caso utilizzare, anche qualora il paziente fosse già sotto fenobarbitale, utilizzarlo comunque è un approccio corretto. La condizione migliore sarebbe che prima che voi diate il fenobarbitale poteste campionare del sangue per poter fare una fenobarbitale mia, non necessariamente nel momento dell'urgenza, anche a posteriori, però sicuramente per poter appunto sempre discutere con il vostro neurologo sul procedimento della terapia, per esempio a livello cronico. Se invece il vostro paziente ha ovviamente delle complicazioni e per esempio ha un deficit a livello epatico, sicuramente il level tiracetam è un'ottima soluzione. La vostra dose di carico si aggira sui 60 mg kg e poi successivamente a 20 mg kg. Ancora il paziente non si rilassa, allora dobbiamo andare procedere in maniera sempre più aggressiva, quindi andiamo a valutare i nostri anestetici. Possiamo utilizzare il Propofol sia in forma di bolo e somministrarlo poi eventualmente in CRI. Però il problema che sapete benissimo è che il Propofol ci dà teletasia polmonare, quindi rende poi il paziente incapace di ventilare correttamente e quindi ovviamente il paziente deve essere ventilato e ovviamente la condizione migliore è quella di avere ovviamente un ventilatore elettronico e posizionare il paziente sotto isofluorano. Sotto EG, ripeto, a meno che voi non abbiate la fortuna di lavorare in una struttura che sia fornita di questo, il consiglio ovviamente è quello di letteralmente addormentare questi pazienti e tenerli in riposo il più possibile. Come ultima linea abbiamo ovviamente la chetamina. Ci sono state una serie di rivalutazioni negli ultimi anni in cui la chetamina è stata portata alla ribalta con un effetto neuroprotettivo e soprattutto non solo nel paziente umano ma anche in quello veterinario e soprattutto, come dicevo, nello status epilettico refrattario. Quindi un'altra molecola che si può utilizzare però, appunto, come ho segnato ha un costo importante è la fosfofenitoina. Un'altra molecola che invece che potete usare molto tranquillamente, mi piace un sacco soprattutto per quei pazienti, come citavo prima, il gatto al quale è stato dato la permetrina è la dexmedetomidina. Può essere utile sia per il paziente di quel genere che anche per il paziente in fase di risveglio da un'anestesia per tenerlo un po' più sedato e per non avere un risveglio del tipo spento acceso, ecco. Quindi se invece il paziente vi arriva iterico o sapete già che ha una storia di encefalopatia epatica e vi arriva in crisi convulsiva avete ovviamente altre valutazioni da fare. Solitamente quello che noi facciamo appunto in un paziente con crisi convulsive itero eccetera eccetera che ci arriva in pronto soccorso è quello di valutare ovviamente sempre secondo l'ABCD approach la condizione. L'encefalopatia epatica ovviamente come vedete ha tutta una serie di esami di laboratorio che esulano in realtà dall'approccio del minimum database in pronto soccorso. Quindi dipenderà ovviamente dalla storia del paziente e ovviamente anche dalla vostra inclinazione o meno e dalle disponibilità della vostra struttura a poter fare tutta una serie di indagini che vadano da un profilo biochimico a per esempio all'ammoniemia, questi sono i vari stadi dell'encefalopatia e come vedete viene i segni sono ovviamente più importanti quando si arriva addirittura verso il grado 4 che in realtà è una condizione in stage dove ovviamente c'è un'insufficienza epatica irreversibile e spesso volentieri si arriva ovviamente all'eutanasia da questo punto di vista mi sento di dire che sono condizioni in cui dovrete avere una discussione importante con il cliente per valutare queste opzioni. Ma diciamo che sia ancora in uno stato in cui sia trattabile quindi il vostro trattamento d'urgenza prevede il latuloseo. I dosaggi che vedete sono importati dagli ultimi testi di emergency and critical care veterinaria. Sono disponibili appunto dosaggi come vedete orali che vanno da 1 a 3 mg chilo per bocca ogni 8 ore oppure per via rettale. Come il midazolam sta a voi valutare le vostre situazioni. Il midazolam intranasale in un paziente in crisi convulsive ha i rischi ovviamente della morsicatura da parte del cane sull'operatore. Ovviamente anche l'atuloseo per bocca ha le stesse complicazioni. Quindi per via rettale con una diluizione come vedete segnata sopra potete fare ovviamente un clister rettale. In aggiunta come dicevamo prima il levotiracetam e il bromuro e il potassio sono le due molecole che possono essere utilizzate per pazienti con un deficit epatico sul quale ovviamente diazepam e fenobarbitale non funzionano. Come trattamenti collaterali nell'urgenza ovviamente l'antibioticoterapia serve a diminuire le produzioni da parte di ammoniaca, da parte di batteri e ovviamente dovremmo trattare anche i vari disturbi del sodio. Ovviamente è una cosa importante che questi disturbi vengano trattati nell'arco di ore non di minuti come vedete. E quando invece il paziente ha subito un trauma cranico l'approccio del crash plan vi aiuta ovviamente a valutare tutte le condizioni che possano aiutarvi a valutare un politrauma perché oggettivamente un gatto che vi entra in clinica con un trauma cranico, una dislocazione mandibolare non può farvi distogliere l'attenzione che quello è un total body trauma. Quindi seguire il mnemonico e crash plan durante la visita di pronto soccorso vi può aiutare a capire se ci possano essere condizioni aggiuntive al trauma cranico. Quindi quando avete un trauma cranico ovviamente avete tutta una serie di cose contro cui combattere, quindi condizioni infiammatorie, ipotensione, ipossia e a livello intracranico quello che vedrete vedrete ovviamente in maniera empirica e clinica, quello che dovrete sospettare è un aumento di volume, un aumento di pressione e una diminuzione della perfusione. Questo per esempio in caso di un ematoma cerebrale dopo trauma. Quindi la vostra valutazione di base può essere collegata a una cosiddetta visita funzionale. C'era fino a qualche tempo fa un ottimo webinar di un collega neurologo diplomato e CVN che aveva fatto un ottimo video sulla visita funzionale in pronto soccorso, neurologica e ortopedica. Al momento non è più disponibile, spero di poterne riparlare quando affronterò il video del paziente traumatizzato. Quindi nello specifico quello che voi potete fare è una valutazione dello stato del sensorio del paziente e quindi seguendo il Glasgow Coma Scale valutare lo stato del sensorio. Oltre questo potete fare una valutazione del tronco encefalico guardando ovviamente la dimensione e la simmetria delle pupille. E ovviamente ancora una volta quando entra questo tipo di paziente dovete farvi trovare pronti e preparati. Quindi minimum database come un emogas e la global fast e l'analgesia perché un trauma è un trauma e anche se respira veloce ha necessità di un metadone. Come dico sempre fino a prova contraria, a meno che non ci siano condizioni particolari, ogni paziente traumatizzato deve avere un agonista puro. Quindi ossigeno e accesso venoso. Quello su cui noi andiamo a lavorare ovviamente durante un trauma cranico sono questi vari punti che vedete qua. Quindi la distribuzione dell'ossigeno, che vogliamo assolutamente aumentare, migliorare. Vogliamo cercare di tenere sotto controllo la CO2. Dobbiamo trattare ancora una volta l'ipertensione intracranica. Quindi a voi la scelta sempre fra manitolo o soluzione ipertonica. Dobbiamo considerare il dolore. Quindi in questa situazione potete utilizzare ancora una volta, come dicevamo, agonisti puri. Potete utilizzare l'idocaina, chetamina, che tra l'altro sappiamo avere questo valore aggiunto di neuroprotettivo, aumenta l'analgesia. Potete anche pensare di somministrarla in formato di MLK in CRI. A proposito troverete nella descrizione in questo video il link per scaricare una serie di protocolli e consensus eccetera eccetera. E poi ovviamente dovremo stare attenti in caso di ipoperfusione e infiammazione. Quindi in questo caso utilizzare per esempio dei fluidi cristalloidi bilanciati per sostenere appunto una pressione arteriosa media non inferiore agli 80-90 millimetri di mercurio. E quindi quando vanno in crisi anche questi col trauma cranico, noi torniamo alla nostra linea di anticonvulsivanti approcciandoci sempre con un metodo multimodale. Quindi ovviamente useremo le nostre benzodiazepine in prima battuta. Assolutamente valuteremo anche il fenobarbitale, come ho detto in caso in condizioni estreme, li metteremo in anestesia e non ci dimenticheremo di utilizzare per esempio chetamina e dexmedetomidina. Il tutto questo ovviamente esclude l'uso di steroidi e fanse perché sono controindicati. Per quello che riguarda invece i cristalloidi sintetici e i colloidi sintetici non sono un grande fan. Negli ultimi cinque anni ho ricevuto una serie di lectures a livello internazionale per le quali oggettivamente dal mio punto di vista c'è... ci sono più effetti collaterali e danni che guadagni. Quindi in condizioni del genere, dove sono condizioni instabili e dove ci sia la possibilità addirittura di dover rischiare che il paziente diventi settico o peggio, preferisco utilizzare altri approcci. Chiaramente ogni situazione a sé stante, come sappiamo, l'evidence-based medicine in emergency and critical care arriva fino a un certo punto, quindi penso che ognuno debba farsi un proprio pensiero critico considerando la letteratura che c'è. E quando tutto comincia ad andare non proprio bene, beh potete vedere una serie di posture non proprio belle da diagnosticare. Una di queste è sicuramente la postura decerebellare, dove vedete questi aspetti. E la cosa importante da ricordare è che nella postura decerebellare il paziente ha un sensore addirittura normale. Quindi in queste situazioni qua il vostro lavoro ovviamente è quello di stabilizzare il paziente con tutta la vostra procedura ABC approach eccetera eccetera, ma non dovete dimenticare di valutare un consulto col vostro team, ovviamente un consulto neurologico per valutare un CT, un MRI, un spinal tap, qualsiasi cosa per andare avanti nella valutazione del paziente. Ovviamente tutto questo ha dei costi e quindi ovviamente dovrete parlarne con il cliente. Un'altra postura che invece non ha una proniosi proprio splendida e che quindi ovviamente è una condizione che mette a rischio vita il paziente e quindi di questo dovrete parlarne ancora una volta con il cliente per valutare l'eutanasia. È la postura decerebrale, quindi avete il rischio di arniazione imminente e il paziente ovviamente è in stupor se non già in coma. Un'altra condizione invece sulla quale potrete lavorare con il vostro neurologo è ovviamente lo shift sharrington dove ovviamente le lesioni invece sono a livello spinale. In una situazione in cui avete passato ore e il vostro team vi ha dato il cambio, passando ulteriori ore sulla stabilizzazione di questi pazienti, non è il concetto della fine della crisi convulsiva a farvi calare l'attenzione. Quindi per mantenere una organizzazione, una standardizzazione effettiva del vostro lavoro, la Kibri's Rule of 20 vi ricorda passo passo come tenere sotto controllo ogni tipo di paziente indipendentemente dalla patologia. Quindi non si cala l'attenzione perché se no sapete come finisce. Quindi si tratta di mantenere un monitoraggio del paziente, una valutazione della perfusione, quindi un emogas ogni 4-8 ore, una valutazione della temperatura e ancora lo stato del sensorio e lo stato neurologico del paziente, quindi nei casi delle varie tipologie di crisi convulsive, il modified Glasgow Coma Scale vi aiuta, ma vi aiuta non a dare semplicemente un numero a quell'orario là. Vi serve, come vedete nella slide in basso a destra, a vedere come procede il paziente, per cui se voi avete un paziente che vi entra con un Glasgow Coma Scale di 6, ma dopo 12 ore vi rimane ancora 6, chiaramente la vostra prognosi non è proprio delle migliori. Quindi dovete avere appunto, come vedete, una curva ascendente nel valore dell'MGCS. E ancora il monitoraggio si riferisce anche alla produzione urinaria, alle valutazioni, alla prevenzione delle ulcere da decubito, alle cure ostamologiche. Nelle condizioni in cui avete il paziente ovviamente intubato dovrete pensare di aspirare queste vie aeree, a fare un'igiene orale e a valutare ovviamente un'interruzione delle seduzioni oppure anestesie ogni tot ore. Una cosa fondamentale sulla quale stresso ogni struttura dove lavoro è il decubito di questi pazienti neurologici. Spesso e volentieri i pazienti vengono messi, come vedete in alto a sinistra nella slide, così addirittura con il sedere che è più alto della testa. Questo ovviamente non deve accadere perché ovviamente c'è un aumento ulteriore della pressione intracranica se questo paziente è entrato per esempio in crisi convulsive. Quindi il concetto è mettere una qualsiasi cosa che parta ovviamente a livello della spalla per mantenere il paziente con un'inclinazione di 30 gradi. E quindi quando siamo in dirittura d'arrivo alla fine della stabilizzazione del paziente abbiamo fatto i nostri monitoraggi oppure dobbiamo procedere con il nostro team verso altri tipi di valutazioni come dicevamo prima una CT, un MRI eccetera. Non rimaniamo impalati come quel signore con la maglia numero 7 che ha fatto bestemmiare il sottoscritto e tanti altri tifosi al Madison Square Garden di New York per anni, ma passiamo la palla al nostro gruppo di neurologia. Passando la palla ovviamente non è che ci sganciamo una patata bollente, noi continuiamo la collaborazione con il gruppo di neurologia per esempio o con un neurologo o chi si occupi di neurologia nel nostro gruppo, cercando di sempre attenerci all'evidence based medicine. Quindi per esempio se pianifichiamo il trattamento cronico sapete che dal 2015 c'è il consensus per il trattamento delle crisi convulsive e in alternativa se tutto manca sapete che ci sono questi signori dell'IVETF che sono appunto un gruppo a livello mondiale di neurologi che possono darvi il supporto necessario. Grazie ancora una volta per aver ascoltato i miei excursus e aspetto volentieri le vostre domande. Grazie 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 Grazie.